bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Eurotrack Simulator 2 io sono il vostro Taras e questo è il mio primissimo video scusate se non c'è la intro però è ancora in fase di progettazione diciamo e quindi vabbè questi qua sono due profili creati già da mio fratello e quindi vabbè li lasciamo stare uno di livello 32 e un altro professionista beh iniziamo subito uno nuovo 9 vabbè allora noi qua abbiamo due mod le ho attivato tutte e due perchè dopo se le volete attivare scrivetemi giù nei commenti allora iniziamo mettendo questo il mio altro preferito è sempre la Volvo Volvo è lo spettacolo oh e dopo di segnali mettiamo fuoco fuoco come cosa mettiamo Taras Trasporti ottimo linguaggio italiano crea io uso la tastiera non ho il caso ma prossimamente lo acquisterò quindi per adesso mettiamo il cambio sequenziale cioè con la tastiera che si fa Shift oppure CTRL si eccolo termine di iniziarlo mettiamo il caricamento ok io partire sempre giù in Italia e partire da Verona si no vabbè tanto questo pezzo quello che taglierò rieccoci ragazzi adesso ci fa cioè non ho affatto fare un tutorial diciamo come i tasti ma io già lo sapevo perchè non è la prima robina su questo gioco questo è il tuo quartiere generale è un garage piuttosto moderno un'esperienza buona è molto bello ma è già un buon inizio noi ricordo che noi potremmo avere altri garage in tutte le città e li possiamo ampliare fino a un post mi sembra 5 credo e che può contenere 5 e e con questi 5 posti scusate e con questi 5 posti noi potremmo ampliare la nostra azienda e quindi guadagnare soldi mettere nuovi artisti e tantissima altra roba purtroppo non ho niente da parteggiarci perciò che ora non ci sono camion in vista è vero perchè noi lo dobbiamo acquistare un camion nuovo una volta aver guadagnato abbastanza soldi un camion sarà in grado di muoverti liberamente nel mondo iniziale la tua carriera da qui buona fortuna eh speriamo qui puoi osservare questo è il mio stato personale dove c'è la carriera che sarebbe questa adesso siamo a livello 0 e possiamo salire fino a un livello con una mamma comunque è elite livello elite poi qui c'è i profili che ti fa uscire la voce non lo faccio e questi sono dei 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 foto studio che tu potresti cioè che tu magari puoi fare delle delle foto voi potete fare delle foto al camion vediamo questo 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 è offerte di lavoro questo quando avremo un lavoro autonomo e avremo un camion tutto nostro e lo possiamo fare e questo invece è il lavoro dipendente partiamo con questo partiamo con questo si adesso stiamo guidando uno scan ahhh aspettate questo pezzo ve lo taglierò eccoci ragazzi ho cambiato un po' le impostazioni perchè sono quelle che uso io sono diverse diciamo ok avviamo su alziamo il motore e partiamo allora stiamo guidando uno spagna un arcaneo con no ho fatto la foto con 18 tonnellate dei pomodori addirittura portiamo i pomodori destinazione a milano transit vabbè guadagno ok la rimettiamo nella mappa dobbiamo girare e qui posso andare questo è un gioco molto bello si togliamo la freccia un gioco molto bello abbastanza forte forte come vi dicevo ragazzi questo è il mio primo video questo è il nuovissimo video sul mio canale al prossimo momento ci sarà sicuramente un altro video sulla sulla mia nuova intro perchè ancora la cioè so che non l'ho creato pochissimo tempo fa sicuramente questo video lo vedrete vedrete non so dopo domani domani quindi ok dobbiamo andare a transinet ah ragazzi io registro con fraps registro con fraps e se magari devo registrare sul display registro con ah monto con cantasia studio 8 e dopo sicuramente ci sarà ci sarà farò dei tutorial su come scaricare questi questi programmi molto buoni buonissimi e poi mi dispiace per l'audio però devo acquistare ancora il il microfono e il bugietti forse sennò prenderò delle cuffie acquisterò delle cuffie e farò i gameplay con quelle adesso sto con le cuffie del telefono quindi non so se vedrà bene io dell'aurotrack simulator 2 ho la versione l'ultima versione la 1.10.1 forse l'ultima versione non so e le nuove cose diciamo sono in pratica ci sono le mini nuove nuove mini come auto i forgoni che hanno degli attrezzi sopra diciamo le bande queste qua a destra fanno non so perché ce l'hanno messi però c'è un'opzione che si possono anche togliere se vi danno fastidio quindi scusate se dei momenti sto anche zitto perché sono diciamo principiante quindi non sono tanto bravo a fare io i video spero di migliorare io soprattutto carico i video in estate diciamo cioè faccio video casseggio gameplay tutorial delle volte anche unboxing magari quando che ne so arrivano ah prossimamente forse di forse acquisterei il volante logitek g27 non so se la versione corsa o o come la versione normale acquisterò il volante e quindi non so ci farò un unboxing quindi intanto qui c'è la fila su questo canale porterò anche altri giochi un altro acquisto sempre sarà o hdv r ovvero la scheda di acquisizione che serve per acquisire i dati dalla playstation cioè quando facciamo i gameplay sulla playstation acquisisci i dati e quindi prendi i dati io li monto diciamo prendi i gameplay io li monto e lo carico sul computer e come stavo dicendo forse acquisterò il game capture oppure il hdv r molto buoni intanto ci apprestiamo ad andare a portare il carico senza fare incidenti a portare un minecraft dei gameplay di minecraft non so se farò anche minecraft con gli altri perché non mi piace è meglio fare tutto da soli porterò minecraft no con le mod perché con le mod non mi piace minecraft con la eh come si chiama il pacchetto grafico spax purecraft bd molto bello no take on play prossimamente di quello però intanto iniziamo a giocare autotrack farò dei video ogni tanto di autotrack quindi puliamoci non so se sicuramente vi metterò una musicetta in sottofondo la musica bassa per allieare i momenti di silenzio quindi ditemi se l'ovio è troppo alto oppure che ne so si sente male oppure la grafica fa schifo ditelo sotto nei commenti e cercherò di migliorare i vostri di migliorarli insomma ma poi dicemi se volete noi gioie magari li compro e li porto col canale dd più se volete più ovviamente mi è un'esplorata rupesco e ecco i miei bella mettiamo in front of us no? facciamo incidenti metto in camera facciamo i danni subito subito manchiamo anzi subito 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 Ok Il parcheggio E diciamo che questo primo video è finito Sì andiamo più giù dai Io non vedo la visione alta Cioè questo Non mi piace Cioè ma io far chiacciare così Nemmeno dei specchietti Andiamo avanti Ok Allora ragazzi Questo era il mio primissimo video Aspettiamo Concludiamo questo video mettendo Adr Questo era il mio primo video Spero che vi sia piaciuto Come sempre mettete un pollicione Commentate quando ti vede E iscrivetevi al canale Ciao